Musica Oggi a Sorsi di Benessere vi voglio presentare un'alternativa alle salsine che magari possono essere molto caloriche invece prepariamo una vinaigretta, una sorta di vinaigretta di mirtilli che in realtà è una salsina che otteniamo super sana anche molto piacevole che possiamo utilizzare per esempio per condire delle insalate ma anche della carne grigliata ma anche del pollo, delle carni bianche, del tacchino e del pollo e utilizziamo quindi i mirtilli i mirtilli sono intanto alleati del microcircolo, quindi alleati della vista sono ricchissimi di preziosi antiossidanti che concorrono quindi anche a mantenere giovane la pelle ricchi di vitamina C, davvero sono portentosi e quindi ecco qui un modo per diciamo realizzare una salsina che sia buona e che faccia bene mettiamo ma proprio giusto un paio di foglioline di menta fresca giusto per dare quel gusto appena anche fresco però non deve, non dobbiamo abbondare altrimenti la nostra salsa saprà troppo di menta aggiungiamo del buon olio extravergine d'oliva, mi raccomando l'olio importante che sia di qualità e dopodiché unite gocce di buon aceto balsamico ecco qui, pizzico di sale, ne basta poco e davvero questo è un modo di regalarci vitamine, sali minerali, preziosi nutrienti anche gli antiossidanti che abbiamo nel nostro buonissimo olio di oliva e rendere più piacevoli i nostri piatti andiamo poi a frullare tutto frulliamo fino ad ottenere una crema omogenea ecco qui, davvero è pronta come vedete in un minuto vi faccio anche vedere che bel colore per cui voi regalerete anche un bellissimo colore alle vostre insalate o alle vostre carni bianche eccola qui, guardate che bella ve la faccio vedere più da vicino e quindi la vostra salsina è proprio pronta buona, fresca e vitaminica